Ciao ragazzi, sono Riccardo, Davide, Francesco e siamo lo staff di Takeaway Studios. Noi lavorando a 360 gradi nella musica vogliamo cercare di dare qualche consiglio a voi che cercate di fare il nostro stesso lavoro, magari ad artisti. E in questo video parleremo un po' di come creare il vostro progetto musicale. Il progetto si deve inserire nel mercato attuale, non avere la presunzione di voler fare solo quello che vuoi. Ascolta tanta musica e sì innovativo, ma in modo intelligente. Il nome del tuo progetto deve essere di impatto, di facile memorizzazione per le persone che ti ascolteranno. Devi guardare magari su Google, su Facebook, se qualcun altro lo utilizza lo stesso nome per cercare di essere unico. Per quanto riguarda la scelta del genere musicale, non cercate di copiare magari altri artisti ma fatevi una vostra identità con i vostri gusti, guardando sempre avanti rispetto agli altri. Creati un'immagine riconoscibile, anche nella personalità. Chiunque ti veda deve capire subito che sei un artista. Poniti degli obiettivi raggiungibili e fissati dei tempi. Magari butta giù un plan di lavoro per dare al tuo pubblico quello che desidera. Cerca anche di stabilire quali sono i tuoi punti deboli. Fatti aiutare da persone del settore, professionisti. Non avere paura dei commenti negativi, sbagliando si impara. Non avere fretta di pubblicare i tuoi brani inediti. Devi crearvi dei canali di interesse in modo che ci sia un pubblico che vuole ascoltare il tuo progetto. Vi ringraziamo dell'attenzione, speriamo di esservi stati utili e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!